E' stato il titolare a mettere in fuga i ladri dopo che l'allarme è scattato, infatti non ci ha pensato due volte e si è diretto in auto verso l'azienda. Una volta sul posto si è messo a suonare ininterrottamente il claxon. La banda così è scappata a mani vuote. A finire nel mirino dei malviventi, un'azienda ora fa di Tegoleto, peraltro già colpita lo scorso luglio. I ladri ieri sera, attorno alle 22, hanno tagliato la recensione e hanno tentato di sfondare con un piccone la porta sul retro. A quel punto è scattato l'allarme e i ladri sono scappati a mani vuote. Sul posto anche una pattuglia dei vigilantes e una dei carabinieri che hanno già dato avvio alle indagini. Un colpo che arriva a pochi giorni dall'assalto alla vicina Joker, sempre a Tegoleto, con un modus operandi del tutto simile. In quel caso però il colpo era andato a buon fine. La banda infatti si era data alla fuga con l'argento e ottone per alcune decine di migliaia di euro. Il prefetto intanto nelle ultime ore ha annunciato il rafforzamento dei controlli per arginare l'allarmante fenomeno. Abbiamo rafforzato il coordinamento, quindi ci saranno delle pattuglie sia della Polizia di Stato che dei carabinieri che si muoveranno in modo coordinato nei diversi siti produttivi. Abbiamo l'intenzione di rafforzare il coinvolgimento della vigilanza privata e poi non dimentichiamo che ci sono in corso anche le attività investigative sui furti e le rapine già perperrate dai quali si attendono anche dei risultati positivi e siamo anche confidenti sul fatto che alcuni responsabili vengono già attenzionati. Grazie a tutti.